Allora, questa telecamera che sto facendo adesso al primo piano, ancora un'ora in 52 minuti, boia ladra, mentre questa qua, anche questa 59 minuti, va bene, va bene, però lui è a 1.59, boia ladra sto qua, immagina che, non possiamo appostarci, non si può passare, non lo so, può passare, non lo so, anche io voglio entrare, non lo so se si può passare, ma dov'è che viene bruciato là? Eeeh, qui in mezzo, adesso non mi ricordo di andare in giro, no perché sennò io devo preparare la macchina, guarda qua non vediamo una mazza, se si potessero una parte mazza, io metto la telecamera, per me non c'è arrivo a cazzo, me la metti in pausa, mi taglia un po' quando la fa risposta, la fa a prendere l'arco, viene a rendere l'arco, giusta, aspetta, ora che arriva, Ma io ero là, calüm, ma cos'è, ma è un bot? Aspetta così prendo le stelle, qua prendi le stelle Che casino, dovevi portarti in attrezzatura? Ci è che ho fatto sta qua Dovevi portarti una attrezzatura migliore, altro che sta roba qua Io l'ho, mi nicolio sul ciel No, ma capito si sente Ma lui Questa vicino Ecco Ascolta, se la tengo io in mano, facciamo un prezzo. Beh, cosa? Come faccio stoppare? Come stoppare? Come stoppare? Lasciala andare. Dove hai il tuo? Eh, lasciala andare. Io non ho capito da dove. E io lo so. C'è il polo pio? Vieni poco, se ne ho piaciuto. Ci ho piaciuto un po' il po' più. Faccio fai. Dai. Grazie a tutti. 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 Come cazzo è Piero? Piero è Piero, non lo conosci. Lo conoscono tutti. Se sono di Milano, che cazzo faccio conoscere Piero? Non sei niente, te. Quelli di Milano non sono proprio niente. Figurati io che sono mezzo pergamasco, mezzo brianzolo. Sono solo. Sai quanto cazzo cazzo? Sai quanto cazzo c'è il copyright? Sai che cazzo? Esatto. Dopo aver detto questo ci chiedono al canale. Fanculo al copyright. Ecco, c'è uno dopo chiude il canale di design. Potranno anche chiudermi il canale e io ne apro un altro. Le mie idee non muoiono. Questi tipi bravissimi cosplayer. Porca visera, quanto sono bravi a fare i vigili, porco cane. Ma che la pistola sembra vera. Sono attorinati. Chissà che il video della coprò verrà un po' mosso. Guarda, va. Gira. Guarda, va. Un'altra cosa. Un'altra cosa. Grazie a tutti. il pesante se si stacca la copra pronto a prenderla il presidente operaio preparati che si sta staccando adesso la prendiamo guardate la telecamera mi sa che non riescerà a fare molto fa poco burla giù, burla giù lo dico io vabbè nuova copra in arrivo se ora non che salva fuori non so i dà la dica la dica, spero oh che f***a oddio arrivo i mill no chi, 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 chi i millie, i millie i millie, no i millie, dalla America Dall'America sono arrivati fino in Italia, qui a Trezzo. Banana. C'è un minione enorme da quella parte. C'è un minione enorme. 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 C'è un minione enorme enorme. C'è un minione enorme. C'è un minione enorme 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 enorme enorme. C'è un minione enorme enorme enorme. solo per riprendere qua la nuova io sto soccando il sito